Ragazzi, ci vediamo l'anno prossimo! Ok, volevo iniziare questo video con un po' di cringe perché non voglio che si prenda troppo sul serio Ma cerco anche di non tagliare troppo perché deve essere quanto più genuino possibile È semplicemente un video di... Porca miseria, ok, ci siamo? Pezzo di sì È un video di ringraziamento Ringraziamento per tutti voi follower che ci avete seguito anche in questo 2021 In un anno che purtroppo sta finendo male Perché insomma la situazione qui sta di nuovo degenerando in Italia ma anche in tutto il resto del mondo Però accantoniamo subito questo argomento Grazie mille perché il canale ha continuato a crescere anche quest'anno Abbiamo raggiunto degli ottimi obiettivi Anche dei risultati forse anche al di sopra delle aspettative Però ci tengo a ringraziare non soltanto voi follower Ma anche tutti i ragazzi che hanno collaborato in Pokémon Next durante questi mesi Dalla redazione allo staff di Discord, allo staff social, ai creator Quindi Froby, Diego, Bob, Gigi e Monica Veramente tutti quanti perché avete contribuito ovviamente alla crescita della community E ovviamente voi utenti perché è un lavoro da entrambe le parti Quindi noi che diamo contenuti, voi che ci supportate E questa è una cosa meravigliosa ed è quello che ci fa continuare questo lavoro tra virgolette Perché comunque è più passione che lavoro Noi ci divertiamo a parlare di Pokémon e spero che questa cosa venga percepita anche da voi Speranze per il 2022? Continuare così Continuare a fare video che vi possano piacere Aumentare qualità Ci stiamo un po' lavorando E soprattutto speriamo che anche Pokémon ci faccia divertire Abbiamo leggende Pokémon Archeus ormai alle porte Mancano 29 giorni Chissà cosa ci aspetta nel resto dei mesi dell'anno Molti spin off probabilmente Non a generazione non ci Non ci crede nemmeno lui E quindi forse un po' di pausa DLC probabilmente Ma ne parleremo in altre sedi E qui siccome si stanno scatenando con i claxon Vabbè ormai Questo video andrà così online Cioè non voglio fare tagli Io vi ringrazio veramente di tutto cuore Voi utenti e tutti i ragazzi di Pokémon Next E ci vediamo al prossimo video come sempre Ciao ragazzi Ah e ovviamente auguri di buon 2022 a tutti Cosa più importante State bene Stasera mangiate Divertitevi con moderazione Auguri 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 Ciao ciao ciao